La prefettura di Teramo chiama raccolta le istituzioni del territorio, le forze dell'ordine, l'INAI, l'ASL, i vigili del fuoco, le sigle sindacali, tutti insieme per sottoscrivere un protocollo di intesa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la vigilanza del lavoro nero. I dati nazionali e provinciali parlano di una lieve flessione del numero dei feriti e dei morti sui luoghi di lavoro, anche se nel Teramano restano in migliaia a ferirsi e in decine a morire ogni anno. Il 2017 per l'Abruzzo è stato davvero un anno nero. A livello dell'INAI nazionale sono state presentate all'INAI 635.433 denunce con una lieve flessione rispetto al 2016 e con un aumento però degli incidenti mortali. 1029 infatti di queste denunce fanno riferimento a incidenti con esito mortale. Noi abbiamo ne invece soltanto per il primo mese del 2018, sempre dati nazionali, abbiamo 67 morti sul lavoro a gennaio 2018. La maggior parte di loro sono vittime di cadute da impalcature, da tetti e quindi gli stranieri sono oltre il 10% mentre un dato curioso è che oltre il 25% delle vittime ha più di 60 anni. Nel 2016 abbiamo i dati provinciali ufficiali, abbiamo nel primo semestre 2016 numero incidenti sul lavoro 1969, questo è a livello provinciale di cui 3 sul lavoro con esito mortale, mentre invece nel primo semestre abbiamo 1778 di cui 2 con esito mortale. Qui invece abbiamo un'età diversa perché l'età è per lo più tra diciamo tra 36 e 55 anni. Formazione ed informazione sono i due punti fermi sui quali la prefettura di Teramo intende puntare per sconfiggere la piaga degli infortuni sul lavoro e il lavoro nero. Nel protocollo si prevede infatti la creazione di un osservatorio provinciale permanente al quale riferire semestralmente con dati e relazioni. Anche a causa di alcuni episodi che sono accaduti sul territorio provinciale noi abbiamo dato un'accelerata alla definizione di questo protocollo. C'è stato quel giovane 31enne dipendente della Simplast a Civitella Roveto che morì schiacciato da un rullo grafico all'interno della Simplast. Ci proponiamo tutti insieme di pianificare dei programmi di informazione e formazione per gli imprenditori e per i lavoratori e per i sindacati e con l'aiuto anche dei sindacati e dei lavoratori e poi verrà istituito un osservatorio permanente che semestralmente che elaborerà dei questionari semestralmente riferirà i dati in seno alla conferenza provinciale permanente di supporto poi all'attività di coordinamento del prefetto. Grazie. Grazie. Grazie.